L'intervento dei vigili del fuoco in un ristorante di Sao Nara dove era scoppiato un incendio probabilmente partito da una pentola dimenticata con il fuoco acceso. Le fiamme hanno raggiunto la cappa di aspirazione che si trova sopra il piano cottura e altre zone della cucina. L'allarme lanciato tempestivamente dai proprietari del locale ha permesso un rapido intervento dei vigili del fuoco che ha evitato conseguenze peggiori.